ciao a tutti ragazzi amici collezionisti e benvenuti sull'eleking tv quest'oggi ci apriamo cinque pacchetti di questi rod to russia 2018 pacchetti che ci ha dato molte soddisfazioni in passato in un pacchetto abbiamo trovato sia messi che ronaldo ragazzi non so se l'avete visto dopo il video se non l'avete visto andate a recuperare sono edizione americana come potete vedere qui c'è il codice a barre di fronte così in grande e sono sette figurine quanto le bustine sono fatte così sono versione americana ne sono le versioni americane fatta in questo modo versione degli stati uniti detto questo ragazzi mi raccomando iscrivete al canale attivate la campanella perché a breve inizieranno molti video interessanti sulle nuove uscite adrenali xl fifa 365 tutte le novità che usciranno saranno portate sul canale tutti gli spacchettamenti tutti ce lo mi manca quindi mi raccomando iscrivete al canale poi porteremo anche all'uscita il football proveremo questo esperimento a portare il football sul canale detto questo ragazzi iniziamo a spacchettare poi faremo il ce lo mi manca intanto seguitemi anche sugli altri social tra cui tiktok tra cui instagram soprattutto e su facebook c'è anche la pagina ufficiale iniziamo subito lo spacchettamento allora iniziamo a spacchettare aprimo questa per primo le bustina sentite qualche odore eccezionale appena si aprono le bustine c'hanno un profumino chi c'è sta chi c'è sta pecaric eccolo pecaric c'ha una faccia e pare se sta sforzare che si sta staccare sotto poi abbiamo mantalos della grecia mena del cile questo temena poi abbiamo tiziolis sempre della grecia tutti i greci zenteno rukavina il gigante lukaku il gigante lukaku adesso sto girando questo sto registrando questo video ragazzi c'è l'offerta del celsi e pare che lukaku ci stia pensando non so se andrà a buon fine adesso sto girando questo video c'è l'offerta del celsi non so poi se andrà via perché pubblicherò il video qualche settimana dopo roio dell'argentina miranciu della russia barzagli dell'italia duc guerrero moj savetra terzo pacchetto chi è scubic belotti il gallo belotti con la maglia dell'italia medel ex giocatore dell'inter e del bologna duclas costa ex giocatore della juventus manolas ex giocatore della roma adesso attualmente al napoli muriel dell'atalanta e ningo laner ninja mamma mia ragazzi tanta roba io questi mi metto tutti da parte ragazzi perché poi come al solito ragazzi scrivete la vostra figurina preferita sotto nei commenti perché qua veramente c'è tanta roba c'è tanta roba in queste bustine andiamo avanti perché abbiamo ancora altre due bustine da aprire dire scalak gonzales campos torres iuric hanor ultimo vecchietto a questo punto smalling ragazzi eccolo qui smalling giocatore della roma riveros cesar feisa novakovic torosidis ex giocatore della roma e ilicic dell'atalanta che potrebbe andar via però da bergamo mamma mia ragazzi tanta tanta roba tra cui lukaku va bene adesso sistemiamo le figurine andiamo a farci il cielo mi manca bene ragazzi siamo pronti la prima figurina è il ninja il ninja nengolan col numero 9 e ce l'abbiamo ma ricordavo che c'era il ninja ma lo ricordavo lukaku anche ragazzi e doppione ce l'abbiamo eccolo sempre del belgio peccato e per lukaku pensavo che non ce l'avevo invece ce l'ho la numero 39 ci manca della repubblica cieca poi la numero 51 smalling ce l'abbiamo poi andiamo alla 114 che è la grecia ce l'abbiamo torosidis Manolas ce l'abbiamo ce ne abbiamo un altro della grecia che è la 121 altro doppione ma non è finita perchè abbiamo anche la 125 un altro doppione tutti i doppioni poi dell'italia abbiamo trovato la 130 barzagli scusate ce l'abbiamo la 143 invece ci manca che è Andrea Belotti Poi 188 ci manca Mirancio 198 uguale ci manca ci parliamo di Serbia poi abbiamo 228 ce l'abbiamo è doppia 242 è la pagina dopo Cesar ce l'abbiamo della Slovenia Scubic con il 245 ce l'abbiamo Ilicic con il 252 ce l'abbiamo e poi abbiamo la 256 che c'è Novakovic poi andiamo all'Argentina dove abbiamo la 278 che è Roio l'Argentina ce l'abbiamo quasi tutta ci manca solo la Guerro della Bolivia abbiamo la 292 Zenteno e ce l'abbiamo la 294 ci manca la 298 ce l'abbiamo la 298 ce l'abbiamo poi abbiamo la 323 metel ma il Cile ce l'abbiamo tutto meno che Bravo quindi anche Mena ce l'abbiamo poi 346 ci manca che è Torres della Colombia Muriel c'è 378 ci manca che è Riveros del Paraguay 381 Gonzales altra mancante poi del Perù abbiamo la numero 400 che c'è che è Guerrero 409 Anor ci manca poi abbiamo la 442 che ce l'abbiamo 447 ce l'abbiamo e Australia 473 ci manca ok ragazzi devo dire non è andato malissimo questo cielo mi manca dirò ad to Russia 2018 io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti